Qui nasce una domanda che mi pare che vorrei porre per primo a Stefano. Da quello che è stato raccontato emerge chiaramente che i nove amministratori che si sono succeduti, nonché le varie entità, Roma Metropolitane, l'Agenzia per la Mobilità e quant'altro, non sono riusciti a gestire questo fenomeno. Paolo Berdini dice togliamo la politica da questo, cioè diamola ai tecnici. La risposta che vorrei da voi, quali sono gli elementi nelle varie soluzioni che mi possono dare la serenità come cittadino, perché è giusto quello che dice Tocci, io aspetto il 71, non mi importa di che color è, l'importante è che arrivi per tempo, che mi porti dove devo andare, che abbia collegamenti dall'altra parte. Però perché questo succeda, vuol dire che qualcuno a monte ha una visione strategica delle esigenze, fa una pianificazione e poi lo fa realizzare. Lo fa realizzare da un'atta pubblica, lo fa realizzare da un'atta privata o da più soggetti, è un dettaglio. Ma fino ad oggi non ha funzionato questo controllo e questo coordinamento. Quindi la domanda è perché domani dovrebbe funzionare? Qual è la formula magica per essere tranquilli che ci possa essere una gestione efficace? Prima Stefano, poi gli altri. Sì, grazie. Non voglio eludere la domanda, però solo fare qualche piccolissima precisazione. Ovviamente non voglio fare il batti e ribatti col senatore Tocci. Però dire che Roma Capitale non paga Roma DPL è un'affermazione assolutamente falsa. Io monitoro quasi tutti i giorni i flussi di cassa di Roma Capitale verso Roma DPL. Forse Roma Capitale paga prima Roma DPL di Atac, un azzardo. Il lodo però, quando la Roma DPL nel 2010 ha vinto la gara, ha vinto poi l'unico partecipante, si è giudicata la gara, se l'è giudicata sulla base di un contratto di servizio e sulla base di un corrispettivo chilometrico. Non sulla base del vinco o non vinco il lodo, perché il lodo la Roma DPL poteva anche perderlo paradossalmente. Quindi che facciamo? Se la Roma DPL perdeva il lodo automaticamente non mi gestiva il servizio. Il lodo è un aspetto completamente separato dalla gestione della Roma DPL, che ha un contratto di servizio, come diceva prima Berdini, forse anche abbastanza conveniente, perché poi non ci dimentichiamo che Roma DPL non dipende dai ricavi, a differenza di Atac. Roma DPL viene pagata flat a chilometro e molto spesso su chilometri fatti in periferia, dove chiaramente la velocità commerciale è più alta e quindi è anche meno costoso gestire quelle linee. Non dipende dai ricavi, quindi in periferia o sale una persona o dieci a Roma DPL gli interessa poco. Beh, chiaramente dipende dal contesto, dipende dalle zone delle città, tendenzialmente non è, vediamo in questo, scusate, vediamo in questo caso come chiaramente non è, non necessariamente la leva più adatta. Quindi per rispondere alla domanda, non volevo eludere, chiaramente un sistema di gestione sano c'è sicuramente, che è quello di, lo ribadisco ancora una volta, la terza volta che lo faccio, qui nessuno vuole sollevare Atac dalle proprie colpe, sicuramente Atac è un'azienda inefficiente, sicuramente è un'azienda che è stata governata per anni con un connubio disastroso tra politica, sindacati e azienda stessa. Io dico sempre, tutte le mattine quando inizio qualsiasi riunione, se l'Atac fa l'Atac, se il sindacato fa il sindacato e se la politica fa la politica, già avremmo risolto più o meno la metà dei problemi. Quindi sono convinto, e comunque abbiamo il dovere di provarci, che una gestione sana dell'azienda Atac ci sia, ovviamente riorganizzando il personale, riallocando e aumentando sicuramente il personale operativo, lo stiamo per esempio già facendo, abbiamo aumentato, quasi raddoppiato il numero dei verificatori nel cielo tra l'altro di pochissimo tempo, lavoreremo chiaramente per riorganizzare il personale non operativo, punteremo ad assumere altri autisti perché questa azienda ha bisogno anche di autisti e ha bisogno di autobus. C'è un aspetto anche qui, così con la scusa faccio anche una precisazione, chiaramente non dobbiamo confrontare i 120 milioni contro gli 84 reali di oggi, perché chiaramente i 120 milioni dell'epoca non contavano la parte di Roma TPL. Confrontiamo i 101 con gli 84, chiaramente è vero, ma non dimentichiamoci che questa azienda dal 2007 al 2013 non ha acquistato neanche un autobus, che è un aspetto devastante, io lo dico sempre perché... No, non è aggravante, è che dire che chiaramente quando si fa il paragone con Cotral, che chiaramente se andiamo a ponderare i fondi del Fondo Regionale Trasporti, con i chilometri che fa Atac e i chilometri che fa Cotral, secondo me qualche dato interessante lo potremmo trovare, però se questa azienda, e non è che dipende da Atac, ovviamente dipende dalla politica, se non si acquistano degli autobus, è chiaro che poi è un'azienda che sarà in difficoltà, allora io dico, mettiamo Atac nelle condizioni di correre, mettiamo Atac nelle condizioni di poter gareggiare, perché altrimenti così è facile dire che Atac non funziona. Paradossalmente la ricetta è semplice, acquistare autobus, assumere autisti, ricollocare il personale, e oggi talvolta ha collocato sicuramente male all'interno dell'azienda. Mi sento di dirlo, non è uno slogan, lo stiamo facendo, proprio in questi giorni è stata pubblicata la gara per l'acquisto dei primi 320 autobus che arriveranno nei prossimi tre anni, diverse operazioni sul personale già si stanno facendo, dall'aumento dei verificatori e così via, è un percorso difficilissimo, non penso di avere la verità in tasca, però penso che sia doveroso provarci, proprio perché se l'azienda dalla politica in passato magari è stata gestita in maniera poco oculata, è invece opportuno che adesso la politica si prenda le proprie responsabilità, si rimbocchi le maniche e cerchi di farla funzionare. Non volevo monopolizzare. È chiaro che oggi l'attività di pianificazione e gestione già la fa Roma Servizi per la mobilità, e il discorso chiaramente di trasformare le linee inespresse che sono non d'accordo di più. Per me, io sono talmente estremista che le linee che oggi sono express dovrebbero essere quelle normali e dovremmo fare delle linee più express, delle express, perché le persone non possono confondere l'autobus col taxi, però chiaramente dipende dal... No, dicevo una battuta nel senso, perché ancora si ha la concezione che l'autobus si deve fermare ogni 100 metri e deve prendere sotto casa ognuno. Non è più un autobus, questa mentalità, e torno anche al discorso dei cittadini, che va cambiata. Chiaramente il modificare le linee inespresse, non dipende da ATAC, dipende... Faccio la mia colpa. Sì, sì, quello dicevo, dipende dal pianificatore, Dipartimento, via e trasporti, Roma Servizi per la mobilità. Se ATAC noi domani mattina facciamo dei 200 e passa linee, ne facciamo 100 espresse, loro sono i più felici del mondo, però chiaramente non è che dipende la piattezza dell'offerta, su questo sono d'accordo, chiaramente non dipende dal gestore. ATAC in linea di massima, quello che gli diciamo di fare, fa, se decido che la linea è espressa, ATAC lo fa, se decido che la linea deve fermarsi ogni 50 metri, tendenzialmente lo fa. ...una partita da parte di torce e poi... ...e marci.